funziona perfettamente lo sapevo che funzionava fallo vedere anche dietro questo è un esempio di capotasto fai da te di intelligenza avete bisogno di un barattolino per le bolle di sapone un chitarrista smemorato che se lo dimentica a casa risolto egregiamente guarda se proprio vogliamo dirlo e due elastici enormi e voilà è bell'accordo tra l'altro bell'accordo